Il commento su Italia-Macedonia del Nord è uscito. Siccome Portogallo-Turchia si è giocata in contemporanea con Italia-Macedonia facciamo uscire i commenti di entrambe le partite nello stesso momento. Sono state entrambe partite valide per le qualificazioni a Qatar 2022 e solo una di queste squadre si qualificherà. Portogallo che è sceso in campo in completa emergenza difensiva, ma con Cristiano Ronaldo. La Turchia che si è affidata è il Mazze e Calanoglu. Parlando del primo tempo, sicuramente grande protagonista Otavio, autore sia di un gol che di un assist. Il primo tempo finisce sul risultato di 2-0 Turchia con le reti di Otavio e Diogo Giotta, oltre a un possesso palla schiacciante. Mai pericolosa la nazionale turca, che parlare di nazionale di Calanoglu mi sembra riduttivo. Portogallo avanti dopo 15 minuti. Il giocatore del Porto si fa trovare pronto su una conclusione della distanza di Bernardo Silva che colpisce il palo e deposita in rete a porta spalancata. Partita fin qui a senso unico, col Portogallo che ha il completo controllo della gara. Otavio che è a quota due gol in tre partite da quando è nel giro della nazionale. Portogallo che ha fatto un possesso palla del 60%. Secondo me il furto arbitrale subito contro la Serbia, ha contribuito a questa rabbia agonistica da parte dei portoghesi. Tutti pensavano che l'Italia doveva affrontare il Portogallo, snobbando la Macedonia, e invece la finale per le qualificazioni sarà tra Portogallo e Macedonia del Nord. Il Portogallo vince 3-1 contro una Turchia che verso la fine sembrava anche in partita, ma che poi ha preso il colpo finale decisivo al 94-essimo con Mateus Nunes. La Turchia sbaglia un rigore con Burak Hilmaz, attaccante che segnerà comunque contro i lusitani. In una serata come questa, vergognosa per la nostra nazionale. Sport Mediaset Qualificazioni mondiali 2022 Verso Qatar 2022 Qualificazioni mondiali, il Portogallo batte 3-1 la Turchia e vola in finale dei play-off. I lusitani vincono 3-1 grazie a Otavio e Diogo Giotta, tremando nel finale, I ilmaz accorcia le distanze e sbaglia il rigore del pari all'83, poi in un eschiù dei conti. Il Portogallo rispetta il pronostico ed elimina la Turchia. All'estadio Dodraga con Tildeo, Ronaldo e compagni vincono e accedono all'ultima partita dei play-off, quella che vale un posto nei gironi di Qatar 2022. Saranno loro, quindi, gli avversari della Macedonia del Nord, giustiziera dell'Italia. Gli uomini di Fernando Santos partono subito forte e cercano di far pesare il maggiore tasso tecnico nella propria metà campo. Dopo 11 Diogo Giotta si allunga sulla punizione di Bruno Fernandes, ma in spaccata manda alto. È solo il preludio al gol, al quarto d'ora Bernardo Silva calcia sul palo e sulla ribattuta Otavio arriva prima di tutto per appoggiare in rete il comodo gol dell'1-0. I Turki provano a rispondere con un paio di tentativi di Ander e Cocu, senza però superare la guardia di Diogo Costa. Il Portogallo mantiene il possesso e buca di nuovo la difesa avversaria al 42 con il colpo di testa vincente di Diogo Giotta, che spedisce in rete su cross di Otavio. La qualificazione sembra in cassaforte e i padroni di casa spingono per cercare il trio, ma in un paio di circostanze a Diogo Giotta manca alla precisione. I Turki non crollano e riaccendono la partita al 65, quando un bel filtrante di Ander libera Buraki il mazzinare a di rigore, l'attaccante dell'Ilfredda Diogo Costa e accorcia le distanze. Otavio sfiora la doppietta al 75 con un colpo di testa alto di poco, poi i Turki hanno la grandissima chance per un fallo di fonte in area di rigore. Sul dischetto si presenta Ilmaz, che tuttavia alza troppo la traiettoria e spara alto il penalty del possibile pareggio. L'errore toglie la spinta alla Turchia, che non riesce più a proporre nulla e viene punita con il 3-1 definitivo Danunnes, che al 94 infila su assist di Leo. Il Portogallo arriva alla sfida decisiva per accedere ai mondiali, contro la Macedonia del Nord. Dall'altra parte, purtroppo, non ci sarà l'Italia. Chissà se questo Macedonia del Nord sarà capace di battere pure il Portogallo. Senza Ilmaz sembravano spacciati e invece non siamo riusciti a far nulla.